il petrolio ha segnato i massimi degli ultimi sette anni fino a che punto potrà arrivare da un lato ci troviamo con delle scorte estremamente basse un'economia che riprende e l'opec che aumenta la sua produzione mensile di 400 mila barili al giorno quali sono quindi gli elementi che spingono i prezzi ma soprattutto quali sono i livelli operativi per chi fa trading bene ne parleremo in un webinar estremamente pratico organizzato da active trades per giovedì 24 febbraio alle ore 18 vi aspetto non mancate un saluto da maurezza mazziero